Non ce la facevo più. Oggi però ho trovato questi fantastici appendi grucce. In pochissimo tempo sono andata a triplicare lo spazio nel mio armadio e ho potuto riorganizzare con ordine ad esempio le gonne sullo stessa gruccia, sullo stesso appendi gruccia, quindi 5 grucce con tutte gonne, 5 grucce con tutti i pantaloni, 5 grucce con tutte giacche eccetera. In questo modo mi sarà molto più semplice andare a scegliere i vestiti dentro l'armadio e non andrò a impazzire a cercare le cose perché i vestiti sono troppo stipati. Guardate ora quanto spazio e quanto è facile andare a scegliere la mia gonna preferita ad esempio per quel giorno. Devo dire che è stato un acquisto veramente molto molto azzeccato, sono davvero molto felice. Se vi interessa questo prodotto chiedetemi pure informazioni, vi lascio il link in descrizione. Adesso vado a completare, vado ad aggiungerne e come vedrete ne ho usati solo 7 su 10 in questo momento. Quindi questo qua è l'armadio rispetto all'inizio potete vedere la differenza. Qualcuno potrebbe pensare che i vestiti adesso però siano stipati al di sotto, quindi si potrebbe pensare di non aver risolto nulla ma vi dico di no perché voi potete facilmente e molto velocemente andare ad alzare la gruccia che vi interessa. In questo modo non avrete mai i vestiti troppo appiccicati da non poterli vedere e sta qui la vera genialata e la comodità di questo prodotto. Consigliatissimo! Ciao alla prossima!